L'assoluto vincitore è Dio. La gente pensa che Dio non sia in azione in questo mondo che è senza la presenza di Dio. Ma questo è il grande misconoscimento. Il terzo principio della legge dinamica riconosce che alla base di ogni azione apparente c'è quella uguale e contraria che esiste ma non si rende visibile. È mai possibile che l'uomo non capisca che questa invisibile azione sia proprio quella di Dio. In verità la vittoriosa invisibile azione divina è certo alla base di quella reale del mondo materiale.